Continuano i lavori di recupero e riqualificazione del castello Angioina Aragonese di Agropoli. Dopo l'acquisizione dell'antico ribat saraceno da parte del comune di Agropoli, tanti sono stati gli interventi per riportare all'antico splendore questo monumento cittadino. E dopo il recupero della piazza d'armi, ora l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la definizione delle aree esterne del castello di Agropoli, ovvero dell'antico fossato. La zona infatti necessita di interventi rivolti non solo a migliorarlo nelle finiture e nella manutenzione, ma indispensabili per la messa in sicurezza. La zona del fossato è attualmente adibita a parcheggio temporaneo delle auto per gli eventi che hanno luogo nel castello stesso. Il progetto in oggetto rientra nello specifico in un più ampio obiettivo di valorizzazione del centro storico cittadino ed è stato inserito dalla giunta comunale all'interno del parco progetti del comune di Agropoli. L'importo complessivo per i lavori di messa in sicurezza del fossato del castello di Agropoli ammonterà a 105.696 euro.